buongiorno signor wick ciao angelo piacere di rivederla a roma ha bisogno per caso di un abito nuovo indovinato 49 sa dirmi signor wick se sia un evento formale o un'occasione sociale sociale ed è prevista di giorno o la sera ne voglio uno per il giorno e uno per la sera stile dell'abito italiano quanti bottoni due pantaloni aderenti come preferisce la fodera tattica dischi in carburo di silicone matrici di ceramica corredo in laminati l'avanguardia dell'antiproiettile cuciamo tutto tra il tessuto e la fodera ne ho urgente bisogno nessun problema dove recapiterò il tutto in hotel john wick capitolo secondo al cinema